Cinque magrebini, quasi certamente tunisini, ospiti dell'hotspot di Lampedusa, avrebbero tentato di violentare nella sua abitazione una donna che si trova sull'isola. I cinque avrebbero desistito di fronte alla reazione della vittima, che oltre ad affrontarli con un bastone, ha cominciato a gridare e chiedere aiuto, facendo credere loro che ci fossero alcuni familiari in casa. La donna, che ha 50 anni, ha presentato denunce ai carabinieri che hanno avviato le indagini per identificare gli aggressori. L'abitazione della donna, sposata e con figli, si trova lungo la strada che, dalla struttura di accoglienza di contrada in Bria-Cola, conduce fino al centro del paese. È stata la stessa vittima a chiamare i carabinieri a raccontare nei dettagli il tentativo di violenza, sottolineando che gli aggressori erano quasi, certamente, tunisini. In questo momento l'hotspot di Lampedusa ospita circa 500 nordafricani, quasi tutti i tunisini, gli ultimi 105 sbarcati la notte scorsa. Nei giorni scorsi il sindaco Toto Martello aveva denunciato la mancanza di sicurezza sull'isola, segnalando una serie di reati come piccoli furti e molestie che sarebbero stati commessi proprio dai tunisini. Queste sue dichiarazioni avevano innescato una dura polemica anche con l'ex sindaco di Lampedusa, Giussi Nicolini.